Oltre 7.000 scuole coinvolte, 15.000 studenti e genitori intervistati sul rischio sismico e maremoto, 1.250 alunni formati come responsabili alla sicurezza, 2.300 edifici monitorati e 1.500 progetti messi in atto. Questi alcuni numeri ed esempi che testimoniano l'impegno e il lavoro svolto da cittadinanza attiva nell'ambito della campagna e imparare sicuri sul tema della sicurezza delle scuole, che a 13 anni dalla sua prima celebrazione trova un riconoscimento importante anche da parte del MIUR. Giornata sulla sicurezza delle scuole, una giornata nazionale giunta alla 13esima edizione, che è nata da bisogni concreti, è nata dal basso ma sicuramente molto importante, infatti tanto il successo che ha ottenuto. Sì, una giornata importante perché il tema della sicurezza, che purtroppo molto spesso viene sottovalutato o comunque messo in secondo piano, è un tema centrale nelle scuole italiane, è un tema centrale sia per quanto concerne la fruibilità degli spazi, delle scuole, che molto spesso purtroppo sono ospitate in edifici non adeguati al punto giusto, e sono inadeguati soprattutto sotto il profilo sismico perché ci troviamo in un paese geologicamente molto giovane che ha ovviamente grosse problematiche connesse con i terremoti. La sicurezza delle scuole e i certificati di agibilità degli edifici dovrebbero essere garantiti, purtroppo però non è sempre così. Nell'ultima sisse civica, la delegazione pentastellata del comune di Campobasso ha denunciato l'assenza del certificato di agibilità dell'edificio scolastico Scarano di Via Crispi, un documento che dovrebbe risalire alla fine degli anni 70, che sinora non è stato possibile reperire negli archivi. In un territorio ad elevata vulnerabilità sismica, l'assenza di un certificato di agibilità che accerti la sicurezza degli impianti, la prevenzione incendi, l'accessibilità dei disabili e la resistenza ad azioni sismiche non può di certo passare inosservata. Questo è uno dei grossi problemi del patrimonio di lizio scolastico, non soltanto di questa regione, non soltanto di Campobasso, ma di tutta Italia. Il patrimonio di lizio scolastico nazionale, quindi sul territorio del paese, è un patrimonio purtroppo molto inadeguato. Circa il 70% delle strutture sono inadeguate sismicamente. Gran parte delle strutture che attualmente ospitano scuole sono fine anni 60, 70, 80 essenzialmente, questo è il trentennio nel quale sono state realizzate. Di queste scuole molto spesso manca completamente la parte progettuale e mancano soprattutto le certificazioni che sono quelle di agibilità o di prevenzione incendi. Città Iniziativa sta invocando a forte voce l'attivazione dell'anagrafica delle dizi scolastiche perché è la prima ricognizione reale sul patrimonio, capendo esattamente che cosa esiste di conoscenza e che cosa non esiste, quali sono i livelli di vulnerabilità delle strutture e quindi di conseguenza la configurazione degli scenari di rischio. La mancanza di un certificato di agibilità di fatto rende non agibile la struttura. Quindi il problema della mancanza del certificato è un fatto grave che comunque in qualche modo va posto all'attenzione di chi di dovere.